L'ufficiale actor model è perché un programmatore XP dovrebbe conoscerlo, dovrebbe utilizzarlo o qualcosa del genere, ma la seconda parte del titolo era per marketing e ne parliamo magari in birreria dopo del perché. In realtà potrebbe non servire, però penso che gli extreme programmer di solito sono attenti e interessati a nuove tecnologie, a nuovi paradigmi, quindi perché no conoscere un tassello in più per poterlo poi utilizzare nelle vostre mirabolanti applicazioni. Facciamo un po' di storia e andiamo nel 2005, quando probabilmente alcuni di voi erano ancora a studiare all'università, ma in quell'anno le cose stavano un po' cambiando. Herb Sutter nel Dr. Dobbs Journal, che era un magazine stampato che in edicola si trovava, in qualche edicola molto particolare si trovava, anche a Brescia, sicuramente anche a Bergamo, uscì un articolo intitolato The Free Lunch is Over. Nell'articolo si spiegava che fino ad allora il modo più veloce, più comodo e più economico per far scalare le applicazioni era aggiungere hardware. Quindi i processori raddoppiavano la velocità di anno in anno, la famosa legge di Moore, che è mancato qualche giorno fa, tra l'altro. I costi della RAM dimezzavano di anno in anno, quindi se aveva un'applicazione che non era sufficientemente veloce, bastava aspettare un po', cambiare il processore, metterci un po' di RAM in più, e le performance miglioravano tantissimo, con costi relativamente bassi. Cosa stava succedendo? All'interno del 2005 si stava cominciando a raggiungere un limite fisico, per cui i processori erano arrivati a un limite che non potevano più evolvere più di tanto. Quindi il raddoppio di performance di anno in anno, solo o semplicemente aumentando la frequenza del clock, non era più possibile. E nell'articolo EarthSat introduceva il concetto di concorrenza, quindi stavano per arrivare sul mercato processori multicore, i famosi Pentium multicore, due core, quattro core e così via, e invitava i programmatori a cominciare da usare questi core e a sfruttarli per scrivere applicazioni concorrenti. Questo è il punto di partenza, diciamo, da cui nasce tutto. Poi andremo ancora un po' più indietro nel tempo, però. Nel 2002, Joe Armstrong, che è uno degli inventori di Erlang, durante una presentazione che fece una conferenza, non ricordo se la ha già o qualche altra conferenza americana, mise una slide esattamente con questa frase. In certi linguaggi, non fece il nome, la concorrenza non è stata pensata fin dall'inizio. E questo è un problema, secondo lui, perché se uno in un linguaggio, in una piattaforma di sviluppo, non pensiamo alla concorrenza fin dalle origini della sua progettazione, introdurla dopo comunque non è una soluzione ottimale, quindi porta comunque a dei problemi. O non a una soluzione, più che problemi, a una soluzione non ottimale. La concorrenza però è importante, c'è, esiste, il mondo è concorrente, il business che andiamo a modellare per i nostri clienti è concorrente, di fatto, perché di solito è portato avanti da aziende in cui lavorano più persone in contemporanea. La concorrenza è difficile da un punto di vista tecnico, quindi gestire le API non bloccanti, gestire gli errori, gestire l'accesso a risorse condivise, e da un punto di vista cognitivo, quindi per noi programmatori progettare le applicazioni concorrenti non è sempre facile, dobbiamo tenere in testa un po' più di concetti e dobbiamo riuscire a ragionare bene sul non introdurre errori sulla gestione della concorrenza. Come dicevo prima, però, il mondo è concorrente, quindi dobbiamo in qualche modo adattarci alla concorrenza e scrivere programmi che la gestiscono in qualche modo. Abbiamo, come è detto, oggi server con tantissimi core, quindi già sui nostri laptop abbiamo 8-16 core, cosa totalmente impensabile solo 10-15 anni fa. I server su cui installiamo le applicazioni ne hanno ancora di più e dobbiamo imparare, dobbiamo far sì che i nostri programmi però li usino correttamente. Prima di tutto li usino e poi li usino correttamente. Molti di noi scrivono programmi in JavaScript, anche io scrivo in JavaScript, naturalmente la concorrenza di JavaScript non è una vera e propria concorrenza. Ha qualcosa di interessante, ma non è la concorrenza che interessa a noi. Per gestire la concorrenza, per scrivere programmi concorrenti, sono uscite varie soluzioni nel tempo. Dalle cose più semplici allo shared state, ai threads che usiamo nei linguaggi come Java o C Sharp, alle core routines di Go, le CSP, le futures che sono di fatto le promise, o l'actor model. L'actor model è una di queste metodologie, modelli, per gestire la concorrenza. La cosa interessante è che l'actor model non è l'ultima novità del momento, ma è un'idea nata 50 anni fa esattamente, che è nata nel 1973 come idea. Ed è un modello concettuale per progettare e disegnare applicazioni altamente concorrenti. Un po' di storia. Nel 1973, quindi esattamente 50 anni fa, come dicevo, Carl Hewitt schrisse un paper, Universal Model Actor Formalist for Artificial Intelligence. Stava cercando di risolvere dei problemi di scalabilità su applicazioni che gestivano una grosse quantità di dati in ambito intelligenza artificiale. Siamo intelligenza artificiale però degli anni 70, non quella di oggi. Comunque avevano le loro problematiche. E si inventò questo meccanismo, questo modello concettuale, quindi un paper proprio di universitario, nel quale spiegava come si poteva risolvere il problema della concorrenza, introducendo appunto il concetto di attore e di comunicazione tra gli attori. Qui siamo ancora sulla carta, non c'è nulla di ancora concreto. Ciao. Nel 1975, Hewitt insieme a un collega Smith, disegnano un linguaggio plasma basato sui concetti introdotti dell'actor model. Però anche questo linguaggio rimane di fatto sulla carta, esiste un prototipo non funzionante, però esiste a qualche parte, un micro prototipo, però non è un linguaggio utilizzabile per progetti reali. Per molti anni l'actor model rimane silente, quando nel 1985, Aga, eccetera, eccetera, scrive un libro, un libricino nero, in quale, riesumo poi i concetti dell'actor model, cerca di applicarli al mondo dell'object orientation. Quindi fa dei paralleli, e li vedremo anche dopo, perché ci sono tantissimi paralleli, tra il concetto di attore e il concetto di oggetto. E spiega un po' di cose, riesuma un po', lo rende un po' più pratico rispetto a quanto era prima, solo un paper teorico del 1973. Questa è un po' la storia. Stiamo parlando ancora di actor model solo. Cos'è l'actor model? Allora, ho detto che è un formalismo, un formalismo che introduce alcuni concetti, e che introduce il concetto di attore. L'attore è un'unità all'interno del quale viene eseguita tutta la computazione. Quindi tutte le logiche applicative, le operazioni che facciamo sui nostri dati, le trasformazioni, i calcoli, eccetera, eccetera, avvengono all'interno di un attore. Un actor model, naturalmente, non è un actor model se esiste un solo attore, quindi gli attori in realtà sono tanti all'interno della nostra applicazione. Quindi la nostra applicazione è composta da tanti attori che comunicano in qualche modo. Ogni attore ha un indirizzo, una sorta di identificativo univoco che posso sapere, che identifica univocamente il tale attore, la tale istanza dell'attore. E gli attori comunicano con messaggi. Quindi un attore può mandare messaggi ad altri attori per chiedere cose, o chiedere di compri dei task, delle operazioni. La cosa molto interessante, forse la più importante, è questa, che all'interno di un attore, cioè un attore può gestire solo un messaggio alla volta, quindi all'interno di un attore sono single thread, non ho problemi di concorrenza, perché un messaggio arriva, se l'attore è libero, lo prende e lo processa, esegue quello che deve fare. Se non è libero, rimane in una coda, la cosiddetta inbox, di che dopo vedremo. Quando ha finito di processare il messaggio corrente, andrà nella inbox a prendere il prossimo messaggio. Quindi ho la garanzia che all'interno di un attore gestirò sempre solo un messaggio alla volta. Questa è una grossa semplificazione. Un po' come la semplificazione di JavaScript che è single thread. Sapendo che è single thread, posso essere sicuro che non avrò altri thread che insistono sulle mie variabili, sul mio stato corrente. E naturalmente, ultimo punto, gli attori non condividono lo stato con nessuno. Quindi l'unico modo per accedere allo stato di un attore o per leggerlo, per modificarlo, per fare qualcosa, è mandargli un messaggio. Non c'è altro modo. Dall'esterno. Questi sono un po' i sei pillars dell'actor model. Cosa può fare un attore? Abbiamo detto, un attore può mandare un numero di messaggi ad altri attori, quindi mandare messaggi ad altri attori, dire tu fai quello, tu fai quello, tu dammi quello. Può creare nuovi attori, perché magari è un attore che ha il compito di fare tante altre operazioni, quindi crea altri attori che fanno l'operazione per lui e si aspetta dagli altri risultati. O può cambiare lo stato, quindi nel momento in cui manda un messaggio ad un attore, il suo stato interno viene mutato e quindi può mutare, diciamo, a seconda dell'operazione, quindi il prossimo messaggio che arriverà, arriverà ad un attore che ha uno stato diverso dal precedente. Questo è un concetto che c'è anche in OP di fatto. Apro ancora la parentesi. Tutto quello che ho detto tutto sommato ricorda molto OP per certe versi. Quindi un attore è una classe, lo stato è privato, dovrebbe essere così. Gli oggetti comunicano tramite messaggi, è la famosa definizione di Alan Kay nel 1900, non mi ricordo quando, in un famoso talk, disse che nel suo paper spiegò che gli oggetti dovevano comunicare tramite messaggi. Questa cosa poi è stata un po' snaturata dai linguaggi, ma di fatto i concetti sono ancora quelli, sono molto simili, poi ci torniamo anche su questo discorso. Quindi di fatto volendo disegnare uno schema, abbiamo tre attori che comunicano messaggi, i messaggi arrivano in una mailbox, che è quella coda di cui parlavo prima. Se l'attore è libero, il messaggio viene subito preso in carico e viene gestito. Se l'attore sta facendo qualcos'altro, il messaggio rimane nella inbox, aspetta fino a quando è libero, poi potrà processare il messaggio successivo. Quindi un attore è sempre nello stato idle, cioè non sto facendo niente perché non ho messaggi in coda e nessuno mi sta chiedendo niente. Sto elaborando un messaggio oppure sto elaborando un messaggio e ho altri messaggi in coda da gestire. C'è una coda per attore, sì. Quali sono i vantaggi? Vabbè, isolamento dello stato perché ciò che sta dentro l'attore è inaccessibile dall'esterno, non c'è modo di accedervi, quindi a differenza dell'OP, qui è proprio strutturalmente impossibile accedervi. La scalabilità, perché se un'operazione richiede tanto tempo, posso creare molti attori che fanno la stessa cosa e in parallelo gestiscono i vari messaggi che arrivano. e dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista del programmatore, posso, ho un approccio più semplice alla concorrenza perché io so che all'interno dell'attore sono single thread e posso gestire le cose abbastanza in modo più semplice perlomeno, posso pensare in modo più, meno concorrente. Ok. Ma che differenza c'è tra sviluppare un'applicazione con l'actor model o sviluppare un'applicazione tradizionale? Allora, pensiamo un attimo all'applicazione tradizionale in cui ho un API in post che riceve sulla slash card quindi un rotacarrello riceve un oggetto un prodotto da aggiungere a un carrello. Ok. Quindi pseudo codice ho un in qualche modo recupero il mio aggregato tramite repository stamp ID al mio aggregato carrello chiamo il metodo add item passando gli item che mi arriva dalla post quindi non c'è validazione però supponiamo che ci sia e alla fine una volta che l'item è stato aggiunto al carrello risalvo il carrello lo persisto sul database questo è un po' il giro classico che facciamo più o meno sempre nelle nostre applicazioni web o API web leggo opero scrivo più o meno con diverse varianti poi alla polenta deploy abbiamo fatto discussioni di ore ore e ore su come fare questa cosa però siamo più o meno tutti d'accordo su questo il vantaggio è che è un'applicazione stateless completamente quindi ogni richiesta che faccio è indipendente da quella precedente perché non ho persistente non ho stato non mantengo lo stato tra una chiamata e l'altra tutta la logica applicativa viene nascosta nel dominio perché diciamo il fatto di aggiungere un item con tutta la logica sta qua dentro in questo oggetto cart che è l'oggetto di dominio e ogni volta che cambia lo stato lo persisto su un database fisico quindi anche se l'applicazione cresce posso ricaricare dal database lo stato e ripartire dove ero prima ok tutto funziona comunque bene non ha problemi l'actor model ha un approccio un po' diverso leggermente diverso ma faccio ancora un'altra parentesi storica Alan Kaye che mi ha citato prima disse che l'actor model contiene tantissime buone idee che aveva pensato lui per esempio delle oggetti quindi vedete che c'è un po' di relazione tra le cose e questa è la relazione questa è una curiosità una chicca interessante di come alla fine queste tre persone quindi Alan Kaye che è l'inventore dell'OP Carl Lewitt che è l'inventore dell'actor model e Joe Armstrong che è l'inventore di Erlang pur non collaborando insieme hanno delle cose in comune allora l'actor model inventato da Carl Lewitt si è ispirato al message passing di Small Talk nel suo paper lo scriveva l'idea di mandare messaggi ad attori arriva da Small Talk Small Talk è stato progettato da Alan Kaye prendendo spunto da Planner che è un altro linguaggio di programmazione precedente a Small Talk che aveva il concetto anche di message passing anche se era un linguaggio ho letto poco non so esattamente che funziona però il linguaggio è sempre basato sui messaggi come l'OP ma orientato ai goal non so bene cosa vuol dire questa cosa però non ci interessa Planner è stato ispirato da Prolog Prolog è un linguaggio vecchissimo penso che pochi lo conoscano però è un linguaggio interessante e la prima versione di Erlang in realtà era scritta in Prolog era scritta perché in realtà la prima versione di Erlang era una libreria per Prolog e poi è diventato un linguaggio successivamente quindi vedete queste tre persone di fatto hanno tante relazioni in comune la cosa curiosa è che John Armstrong che è l'inventore di Erlang che appunto è un'implementazione dell'actor model non sapeva nulla del paper di Carl Hewitt quindi la somiglianza è puramente casuale ok questa è una chicca storica che ho trovato su un forum su internet il recap non ci interessa ok e siamo qui andiamo un po' sul concreto abbiamo capito cos'è un a grandi linee cos'è l'actor model cos'è un attore cosa fa un attore cosa possiamo fare oggi noi concretamente per implementare applicazioni per scrivere applicazioni che implementano il modello dell'actor model utilizzare uno di questi linguaggi barra framework quindi se venite dal mondo .net avete h.net nel mondo javascala c'è h h.net è la sua coppia swift in una delle ultime versioni ha implementato un concetto di actor model Erlang e Elixir ce l'hanno nativamente dentro come nel linguaggio pony è un linguaggio molto di nicchia che implementa l'actor model è un linguaggio veramente poco utilizzato però l'ho messo per mi diceva il nome anche pony ok quello che vedremo stasera e poi vedremo anche un po' di codice è implementato in Elixir dicevo un attimo fa che Joe e Armstrong insieme a Virdy che è un'altra persona hanno scritto Erlang nel nel contesto delle telecomunicazioni lavoravano per Ericsson al tempo negli anni anni 80 lavoravano per Ericsson Ericsson stava cercando di un linguaggio una libreria per gestire la concorrenza degli switch telefonici e che avesse una limitata una elevata fault tolerance gli switch telefonici gestiscono migliaia di connessioni contemporaneamente sono telefonate di fatto è importante che le telefonate non cadano mentre se qualcuno va in errore quindi la caduta di una telefonata non deve inificiare sulle altre devono essere possibili fare aggiornamenti a caldo dello switch telefonico e così via quindi il team si è inventato questa libreria scritta in prologo che l'ha chiamata Erlang dopo è diventato un vero e proprio linguaggio che si chiama Erlang con una libreria OTP che sta per Open Telecom Library Open Telecom Platform e la libreria diciamo la core library di Erlang che è utilizzata anche all'interno dell'Xio negli anni poi Ericsson dismise Erlang lo abbandonò come progetto e questa fu un po' la sua fortuna perché il team di sviluppo decise di mettere l'open source e da lì si prese un'altra strada e divenne un linguaggio utilizzato anche fuori dal contesto telefonico e poi nel 2009 mi sembra nacque l'Xio che è un linguaggio basato sulla virtual machine di Erlang quindi è binariamente binary compatible con Erlang giro sulla stessa macchina virtuale è una sintassi un po' più friendly per gli sviluppatori abituati a C-sharp Ruby JavaScript e così via quindi tutta questa tutta questa storia di Erlang della sua storia la sua evoluzione è partita con queste idee sulla fort tolerance e alta concorrenza senza sapere che Hewitt aveva scritto un paper sull'actor model e quindi questa somiglianza è puramente accidentale tant'è che i puristi dicono che Erlang non è un'implementazione dell'actor model perché ha delle differenze quale vediamo chi è un po' più pragmatico come me però ci assomiglia abbastanza ad essere un actor model un'implementazione le differenze principali quali sono? nell'actor model di Hewitt era previsto un garbage collector per gli attori non utilizzati quindi gli attori da Puntot che se non venivano più utilizzati venivano in qualche modo collezionati dal garbage collector distrutti e in Erlang e in XI invece gli attori finché non vengono spenti in modo perché si spengono loro decidono di spegnersi per qualche logica applicativa o perché qualcuno li spegnerà fuori rimangono comunque vivi nell'actor model è prevista la gestione delle eccezioni classiche con il try catch mentre anche in Erlang c'è il try rescue ma è un concetto che ci cerca di evitare perché nella filosofia di cui avete sentito parlare sicuramente in Erlang è del let it crash cioè quando un processo o un attore crash ha lasciatelo morire e tirate su un altro e fa niente tanto ne sono gratis e ce ne sono tantissimi l'altra cosa che nel paper di Hewitt era previsto è che l'ordine dei messaggi non era garantito quindi se mando n messaggi ad un attore l'ordine con cui arrivano non è garantito allora anche in Erlang è garantito solo se l'attore A comunica con l'attore B quindi se l'attore A mando due messaggi all'attore B l'ordine con cui escono dall'attore A e l'ordine con cui arrivano dall'attore B se ci sono proprio più attori in ballo allora le cose si complicano non è più garantito però da punto a punto diciamo che l'ordine è garantito tramite dei meccanismi interni a parte queste differenze poi i concetti sono più o meno simili ok l'implementazione è molto fedele al paper di Hewitt vediamo come potrebbe essere scritto un attore in Elixir questo è Elixir quindi è una def loop quindi rifinisce una funzione loop che prende l'ingresso una variabile state e fa questa cosa questa funzione loop valorizza il new state chiamando la funzione receive do la receive do è una funzione che rimane in attesa di ricevere un messaggio quindi in realtà il programma parte e si ferma quando chiamo la funzione loop mi fermo qua in attesa di un messaggio a seconda del messaggio che arriva faccio diverse cose quindi ho tre opzioni se mi arriva il messaggio hello name questa è una tupla una tupla composta da un atomo hello questo è un atomo una frota di costante e una variabile che conterrà un certo valore processerò il messaggio se mi arriva un'altra tupla se mi arriva un'altra tupla con il do something fu farò un'altra cosa se mi arriva un'altra tupla farò un'altra ancora quindi a seconda di quello che mi arriva il messaggio che mi arriva faccio una certa cosa e alla fine richiamolo in modo ricorsivo la funzione loop passando il nuovo stato quindi questo diciamo che l'output di questo è il nuovo stato che poi lo vado a ripassare nella funzione loop e mi rimetto in attesa del prossimo messaggio questo è un attore molto rudimentale però concettualmente funziona così è un ciclo infinito che rimane sempre in attesa di ricevere messaggi molto molto semplice naturalmente per mandare poi un messaggio al tale attore chiamo la primitiva send che è una primitiva del modulo process di elixir di Erlang gli passo il process ID che è l'identificativo univoco del processo dell'attore passando il messaggio che voglio mandargli in questo caso hello world quindi in questo esempio verrà eseguita la prima opzione quindi hello name farà word e farò qualcosa con questo messaggio questo vai vai questo in modo molto molto semplice vai perché probabilmente mi potrebbe servire qui in uno di questi casi non è obbligatorio in realtà ok gli attori generalmente hanno stato lo stato essendo l'elixir un linguaggio funzionale può essere gestito solo passandolo nella funzione non può essere mantenuto nell'idea di questo esempio era che in qualche punto qui utilizzavo new state per fare qualcosa ok quindi questo è l'esempio grafico naturalmente scrivere gli attori in questo modo che con una funzione di corsiva non è molto comodo anche perché quella lì è un caso molto molto semplice ma gli attori sono molto generalmente più complessi di una funzione del genere quindi all'interno di elixir e di erlang ho una libreria otp che mi mette a disposizione delle faciliti per scrivere le mie applicazioni nel caso degli attori ho il modulo gen server che rappresenta il server generico così detto che di fatto è una sorta di mix in ruby mix in qualcosa del genere o di classe base in realtà non è proprio una classe base comunque è un qualcosa che inietta del codice all'interno del modulo my actor per poterlo poi utilizzare i behavior del gen server ora in erlang e l'ixir gli attori sono mondellati come dei processi non processi del sistema operativo ma processi della macchina virtuale che si chiama BIM B-E-A-M B quindi ogni volta che istanzi di un attore lancia un attore crea un processo e lo tengono in esecuzione i processi vengono chiamati anche server all'interno della nomenclatura di erlang dell'ixir non sono dei processi del sistema operativo veri e propri sono dei processi molto più leggeri più lightweight tant'è che un'applicazione può avere migliaia di processi attivi senza alcun problema anche su un laptop in normale carazzatura senza troppa rama troppa CPU tiene in piedi migliaia e migliaia di processi senza nessun problema ogni processo quindi posso considerarlo come un attore al quale posso mandare i messaggi posso ricevere i messaggi e così via ok vediamo un po' di codice che diventa tutto un po' più interessante ok allora l'idea che pensiamo ho una demo già pronta e fa parte di un workshop che faccio sul tema dell'actor model ne vediamo alcune parti le più interessanti non la scriviamo allo zero ma le vediamo alcune parti interessanti poi sono aperte a domande discussioni tutto quello che volete il contesto nel dominio nel quale lavoriamo è una food delivery application quindi una pizzeria che riceve telefonate riceve richieste di produzione di pizze online le prepara le manda tramite il corriere a casa tua lo scenario è un po' questo ok quindi una sorta di e-commerce però con tempi molto brevi cioè non è che ho il carrello lo tengo lì per sempre ma lo faccio l'ordine per le prossime ore specifico l'ora in cui voglio ritirarla e la pizzeria riceve l'ordine prepara le pizze e me le spedisce i due atto i due non attore i due personas che andiamo a gestire nell'applicazione sono il cliente che vuole ordinare la pizza e il pizzaiolo che prepara la pizza poi ci sono i rider però per adesso non li gestiamo i due ruoli sono questi il cliente può cercare pizza selezionare la pizza e lo time slot nel quale vuole ricevere quindi voglio una margherita una quattro formaggi e una prosciutto e funghi la voglio consegnata alle otto di domani sera qualcosa del genere ok e quindi creo un ordine per avere le pizze col pagamento tutto quello che serve lato pizzaiolo invece ho un'attesa dell'ordine quando arriva un ordine con il giusto timing preparo le pizze perché qui devo schedulare la preparazione delle pizze nel momento giusto perché io prenoto per domani sera quindi la pizza non la preparo adesso la devo preparare mezz'ora prima di consegnarla per averla calda e poi manderò delle notifiche ai rider per che passino prendermi la pizza e portarla poi al cliente finale questo è un po' lo scenario adesso devo provare a si sente? si ok allora vediamo guardiamo un po' il font 4 allora qui ho la mia applicazione si vede un po' si può aggiungare prima un'applicazione di Xeer è un'applicazione che espone delle API non ha interfaccia questa sono solo le API un'applicazione di Xeer vabbè ha un entry point che è il file mix e xs che è il file di progetto diciamo ok ha una cartella in cui sono tutti i test e poi dopo li vediamo una cartella lib con dentro il codice vero e proprio poi altre cartelle di configurazione dipendenze eccetera eccetera l'entry point dell'applicazione è il modulo application quindi questo qua è il modulo di ospizza application che ha una funzione start che viene chiamata da runtime della macchina virtuale diciamo e crea l'albero dei processi di partenza quindi vedete che già questo è una lista di moduli e ogni modulo rappresenta un processo della mia applicazione quindi già la mia applicazione in realtà è un albero di processi attivi cosa che ho dentro ad esempio ho dentro il web server che è cowboy è un web server che risponde sulla porta che è indicata là così ho il puller dei pizzaioli per gestire tutti i pizzaioli ha una dimensione di 10 pizzaioli ha i repository per accedere al database anche quello è un processo ho una serie di registri 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 che sono dei registri delle rubriche diciamo di processi che tengono in memoria l'elenco dei processi attivi con il loro indirizzo il loro PID dopo vedremo perché un process manager e altri gateway che servono alle chiamate verso il dominio tutti questi sono processi quindi vedete che già l'applicazione in partenza lancia 3, 6, 9 una dozzina di processi comunque attiva più quelli in realtà che vengono creati sotto che sono altri sotto processi perché in realtà cowboy questo qua è il processo padre ma sotto di sé quando parte tira già su un'altra centinaia di processi che sono quelli che liberi le proprie liste nell'HTTP ok quindi le applicazioni elixir oppure erlang sono sempre degli alberi di processi andiamo sul mondo web cominciamo a vedere il primo caso in cui devo andare a aggiungere una pizza al anzi no devo andare sì andiamo a aggiungere una pizza al carrello quindi sono l'utente mi sono in qualche modo loggato vedo vedo l'elenco delle pizza e seleziono una margherita una push tutti i funghi e una quattro formaggi e faccio una post per aggiungere al carrello vediamo come è stato implementato allora qui questa qua è l'entry point della post recupero non è fatta a comandi quindi non è cqrs ma è cqs quindi creo il comando per costruire per aggiungere una pizza prendendo i body params quindi quello che mi arriva dal body lo valido se è valido preparo il payload diciamo per il mio comando il comando che mi torna è questo ok cmd ok quindi questo questo build add pizza mi torna una tupla che è un po' il modo idiomatico del xeer di fare operazioni quindi torna una tupla che contiene l'atomo ok vuol dire qua tutto bene e il comando che ha creato e passo questo comando che ho creato a questo gateway che è il mio cart gateway quindi l'ingresso del mio dominio viene sempre gestito dai gateway che sono le porte di ingresso verso il dominio applicativo quindi qua siamo nel dominio http qui siamo nel router il gateway invece è l'ingresso verso il mio dominio di progetto andiamo a vedere cosa faccio qua dentro questo qua è un gateway vedete che cominciamo a usare un dynamic supervisor quindi già un che non è un gen server è una cosa leggermente diversa adesso vediamo perché e cosa fa questo questo gateway al metodo di execute mi hanno detto che prende l'ingresso l'user id dell'utente loggato e il comando che deve eseguire quello che mi hanno scelto di fare è che per ogni carrello che abbiamo creato creiamo un attore un processo in questo caso quindi ogni volta che un utente fa una post se non esiste il carrello di quell'utente lo creo creative not exist e quando l'ho creato gli passo il comando quindi questo gateway non fa altro che andare a cercare il processo l'attore per cui usò il processo l'attore nel modo intercambiabile andrà a creare il processo l'attore o a cercare il processo l'attore per questo user id se non lo trova viene detto lo crea tramite questo start child e una volta che l'ha creato o l'ha recuperato in qualche modo va a eseguire il comando che gli ha passato che è il comando add pizza ok questo gateway qui abbiamo detto che è un supervisor il supervisor è un attore un po' speciale è un attore che non ha molta logica dentro di sé infatti non c'è molto perché questo qui è una funzione di interfaccia che serve per il behavior che di amic supervisor quindi è un inizializzatore che gli dice qual è la strategia che devi utilizzare nel caso in cui cresci lo start link è una funzione di helper solo per semplificare l'avvio invece di specificare a mano tutti i parametri uso una funzione start link di helper diciamo una façade verso la funzione start link interna le uniche due funzioni di dominio sono queste due ma non fanno molto quindi difatti il ruolo del supervisor è quello di è un processo anche lui quindi è un attore ma il suo unico ruolo è quello di creare figli attori figli e tenerli monitorati se per caso uno degli attori figli crescia devo usare la parola mole che è brutto crescia la sua strategia è la one for one cioè fai ripartire quello che è cresciato quindi se per caso per qualche motivo un carrello crescia quello è cresciato tutto se per caso il carrello crescia di un certo utente quello che lui farà lo farà ripartire farà ripartire su quel carrello e questo è definito dalla strategia che definisco nella init ci sono altre strategie che possono dire che possono dire fai ripartire tutti i figli fai ripartire tutti i figli da quello che è cresciato in avanti eccetera ci sono diverse strategie di restart però il concetto è che per ogni utente collegato creo un processo che rappresenta il suo carrello ok qui un attore andiamo a vedere cosa c'è dentro nel mio carrello quindi questo qua è il mio attore del carrello è un modulo si chiama zio spizio scart server usa il gen server come abbiamo visto prima nelle slide quindi questo è un classico server di Erlang un processo abbastanza classico esistono altre varianti c'è il gen server c'è il gen state c'è l'agent ci sono varie vari dialetti diciamo varie varianti del processo ognuno con uno scopo leggermente diverso però il gen server è quello più generico appunto a parte un paio di funzioni di inizializzazione che abbiamo visto come prima ha una funzione execute che prende l'user id e il comando questa funzione execute fa una chiamata al gen server passandogli ancora l'user id dopo capiamo perché il comando allora i gen server come tutti i processi dell'XIR in Erlang hanno sempre un'interfaccia client e un'interfaccia server cioè questa execute è eseguita ancora sul client cioè nel processo del chiamante vuol dire ok il messaggio in realtà parte con questa chiamata call è qui che parte il messaggio vero e proprio verso il destinatario ok questo execute qui è ancora nel processo del chiamante quindi in questo caso nel nostro router sopra ok quando faccio l'agen server call gli passavo il comando add pizza ho le varie handle call le handle call sono delle funzioni che gestiscono i messaggi in arrivo quindi invece di avere il case switch che avevo prima sopra la receive do con i vari casi qui ho diverse funzioni che gestiscono vari tipi di messaggi che vengono mandati ad esempio quello che interessa a noi è questo add pizza è il comando che viene mandato quindi l'agen server .call manda il messaggio il messaggio arriva sulla inbox del processo server il processo server scoda il messaggio appena può e va a chiamare questa handle call gli passa l'item da aggiungere con il comando pizza questi handle call hanno tutti la stessa firma ricevono in comando da gestire un from cioè il pid del mittente così dura un po' di più ok dicevamo queste funzioni handle call hanno tutte la stessa firma handle call comando mittente pid del mittente che in questo caso si mette un underscore davanti vuol dire che non mi interessa e lo stato corrente quello che devono tornare queste handle call è una tupla reply con il nuovo stato scusate la risposta da mandare al chiamante e il nuovo stato se avete sviluppato delle applicazioni in react con flux o redax eccetera eccetera questi qua sono dei reducer alla fine azione stato corrente e ritorno al nuovo stato è sempre così è un concetto abbastanza funzionale che però funziona abbastanza bene quindi nella mia handle call quello che vado a fare è che vado a creare un nuovo stato del mio agent server andando a chiamare questo card punto add pizza qui ho dentro la logica di aggiunta della pizza a una struttura dati quindi lo stato rifatto una struttura dati niente di più alla fine quando la pizza è stata aggiunta ho ottenuto il nuovo stato corrente del mio agent server faccio la reply ritorno al chiamante la tupla ok nuovo stato e setto il nuovo stato dentro me stesso quindi il agent server ha stato ed ogni volta che chiamo questa handle call la pizza cambia e viene sempre salvato internamente non viene mai persistito sul database in questo caso ok quindi qui siamo in un contesto nel quale lo stato non è persistito sul database ma viene tenuto sempre in memoria dall'attore quindi vuol dire che se io utente faccio 5 chiamate per aggiungere 5 pizze diverse vado a insistere sullo stesso processo perché il mio gateway qui questa creative not exist non farà partire il nuovo figlio per il mio utente perché il processo viene identificato dal mio user ID quindi vede che c'è già un processo associato al mio utente semplicemente utilizzerà lo stesso processo di prima e andrà ad aggiungere un'altra pizza al carrello esistente cosa succede se cresce senza perderà il carrello però in un contesto di questo tipo poco mi importa ok vi faccio vedere solo velocemente cosa c'è dentro add pizza qui c'è la logica di aggiunto della pizza semplicemente prende lo stato e l'item corrente da aggiungere va a vedere se esiste già la pizza e incrementa la quantità se invece non esiste la pizza va ad aggiungere un nuovo item dentro la mia struttura dati la struttura dati cart è fatta così dentro un user ID un elenco di pizze un totale di euro amount e lo slot riservato che lo vediamo dopo però poco ci interessa questa diciamo è logica sulle liste sulle strutture dati la cosa interessante è tutta qua chiaro il giro questo ho quindi ho 100 utenti connessi avrò 100 processi attivi del carrello ognuno è tutta la memoria mai persistiti vai io non conosco questo linguaggio però qual è il punto in cui perché io qua vedo delle chiamate a funzione qual è il punto in cui queste chiamate a funzione sono dei processi con un PID e che partono in parallelo cioè è una cosa intrinseca del linguaggio oppure è quello use gen server che definisce che quello è un processo non so se ho fatto giusta la domanda capito la domanda allora lo use gen server dice alla macchina virtuale che questo sarà un processo non lo fa partire però l'avvio di questo processo vero e proprio avviene nel suo gateway qua sopra questa creative not exist cosa fa scritta così può sembrare forse della scrivo diversamente questa può essere scritta così ok questo è fatto così quindi l'execute chiamata dal router va a vedere se esiste già un processo associato a questo utente se non esiste chiama questa start child quindi fa partire un processo figlio di tipo di ospizza cart server quindi lo fa partire qui che parte veramente il processo carrello e gli passa lo user id cioè questi parametri qui sono quelli che identificano il tipo di processo da far partire il modulo di fatto di ospizza cart server e gli passano lo user id questo cart server qui è questo lo user id è quello che gli arriva qua dentro ok qui viene fatto viene fatto partire il server e sono un processo a parte quando dicevo prima che queste funzioni sono queste questa questa esatto passate da execute esatto quindi queste due funzioni qui la start link execute sono nel processo chiamante vengono eseguite nel processo chiamante e queste qui invece da qui in giù sono eseguite nel processo server vero e proprio eh sì all'inizio è un po' difficile che è da intuire è come se in realtà non avrei bisogno di questa execute qua io in realtà potrei far così togliere questa potrei togliere questa funzione e qui nel gateway quando la chiamo scrivere una cosa del genere in qualche modo identificare qua il ziospizza punto cart sì non è la convenzionalità è quello che è quello che avviene dentro il gen server se noi andiamo a vedere il codice sorgente del gen server c'è un loop infinito esattamente come l'ho visto prima che di fatto nasconde tutto questo giro qui e quando sulla receive do in base a quello che diceva a chiamarla handle call corretta però vai ok allora perché il comando che viene creato dal router qua siamo nel router ok ho una post uso questo command builder e chiamo la funzione build add pizza command che al suo interno fa la validazione del json in ingresso fa tutto quello che deve fare e costruisce la tupla che serve per eseguire il comando poi elixir su tel pattern matching quindi ho n funzioni che si chiamano tutte uguali perché queste qua sono tutte le stesse a seconda del tipo di 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 parametro del valore del parametro che gli arriva ne esegue una o l'altra è una specie di switch diciamo nascosto non di processi di sistema operativo ma processi della macchina virtuale di Erlang sono processi più lightweight più leggeri più no 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 è è dentro la macchina qui vero è che Erlang ed elixir funzionano anche su sistemi distribuiti quindi potrei avviare una macchina Erlang qui un'altra una istanza dell'applicazione qui un'altra istanza dell'applicazione su un'altra macchina e metterla in comunicazione e decide lui se sponare un processo su questa macchina o su quella se ne occupa poi lui tramite protocollo TCP su un attivo quando le fai partire devi dargli gli indirizzi IP per metterle in comunicazione e costruisci la rete di nodi e poi è lui che si gestisce il bilanciamento tra i nodi e la comunicazione tra i nodi puoi fare anche questo se una macchina non bastasse ne puoi mettere una in parallelo in modo abbastanza semplice ok non vedo altre domande sì non è un thread però è ancora più è come se fosse un'istanza di una classe su un altro thread al quale puoi mandare dei messaggi utilizzando un broker di messaggi esatto potrebbe essere così ok ho davanti ancora un pezzo con un altro case use case ok sempre sul router del mio del mio carrello posso andare anche a chiedere posso andare anche a chiedere il carrello quindi andare a fare una get del carrello dell'utente logato quindi una get slash ecco qua non c'è la rotta completa perché la rotta completa è montata da un router principale quindi facciamo un router principale che forwarda tutto ciò che comincia con slash cart al router cart quindi le rotte che vedete nel cart qui sono parziali ho perso il segno ok quindi la get tira fuori ancora come è detto l'utente dalla connessione dal token jvt e va a eseguire direttamente una execute user get state in questo caso è un comando che non va a mutare lo stato ma va semplicemente a chiedere lo stato del carrello ok tornerà un carrello che poi viene incodato in json questa execute qui esattamente quella di prima in questo caso se non c'è il processo quindi chiedo i dati di un carrello che non ho ancora creato viene creato un carrello vuoto e viene tornato il carrello vuoto semplicemente se però esiste vado dentro vado ad eseguire la get state e in questo caso la get state non fa assolutamente nulla risponde e basta risponde come con la solita reply che è da contratto deve rispondere con il reply torna all'ok state che è lo stato che gli arriva come chiamante e risetta lo stato su se stesso quindi lo stato non cambia quindi rimette se stesso come stato in questo caso è un'operazione che non cambia stato al gen server ok ok il carrello diciamo che poi è fatto poi ha altri meccanismi adesso vediamo il discorso dello slot ha un meccanismo di scadenza che da puntotto se per un tot di tempo qui c'è se per un tot di tempo il carrello non muore mai rimane sempre vivo quindi vuol dire che se c'è tantissimi utenti che vengono creano carrelli e li abbandonano rimangono processi attivi per sempre fondamentalmente non c'è una logica di distruzione del carrello in questo caso si potrebbe mettere magari lo vediamo dopo però in questo caso non è stata gestita e ben detto che non abbiamo gestito neanche il caso in cui il carrello cresce e i dati vengono persi ce ne sbattiamo in questo caso questo esempio è inventato ma è preso da un esempio molto simile che è reale nel quale è stata adottata esattamente una politica di questo genere quindi in quel caso era un'applicazione web per una start-up che sta penso di poterlo dire non c'è un NDA credo sì penso di sì è una start-up che sta implementando un meccanismo di ritiro della spesa quindi faccio la spesa in vari negozi del mio paese i negozi portano la spesa in un centro di raccolta e tu passi con la tua macchina al centro di raccolta a ritirare la spesa si chiama Picking Car quindi anche in quel caso abbiamo fatto i carrelli fatti in questo modo qui che potrebbero cresciare e vengono persi nel caso di una pizzeria mi aspetto che se capita rifai il carrello non è una cosa così grave nel caso magari di un e-commerce più serio potrebbe avere senso non perdere il carrello ci sono modi per farlo non è che è impossibile farlo dopo lo vediamo l'altra cosa che devo fare una volta che ho creato il carrello il carrello è pronto è definire qual è lo slot per andare a ritirare la pizza quindi ho prenoto la pizza in questo momento ma faccio l'ordine per domani sera alle 8 quindi la pizzeria ha a disposizione una serie di slot ogni slot ha una sua capacity in questo caso è un numero intero quindi per ogni ora posso consegnare al massimo 10 pizze una cosa del genere e ne ho un tot già riservati quindi di questi 10 7 sono già riservati quindi ne puoi prenotare ancora 3 il meccanismo per riservare lo slot è molto simile a prima quindi anche qui ho un mio router ho una ho una post eccola qua faccio una post sul passandogli il data ora dello slot che voglio riservare nell'url qua creo un comando di tipo build reserve slot command anche qui è un comando che contiene l'atomo reserve slot e lo user id e vado a chiamare il gateway in questo caso sono su un altro gateway il gateway degli slot che però è esattamente simile a quello di prima cioè esattamente uguale in realtà quindi alle init allo startlink e all'executivo quindi anche in questo caso ogni slot che vado a creare è un processo quindi ho davvero centinaia perché l'utente il pizzaiolo potrebbe crearmi degli slot per i prossimi sei mesi quindi potrebbe avere centinaia di processi attivi contemporaneamente cosa scusa è implicito di fatto la star child se il processo con questo date time perché qua l'id dello slot è il date time esiste già torna un errore però non fallisce torna solo guarda è un errore c'è già il processo non te lo creo e quindi va avanti quindi non è necessario gestire il caso di errore è l'identificativo del processo il dd si? posso passare di più cose quindi tutto quello che passo qui va in realtà dentro questo startlink qua quindi qua un array con un unico elemento con un id quindi la 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 elettore e le ore ot20 di domani del 29 marzo ok delle 20 chiamano la 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 laus lady di payload la reserve slot chiama la reserve se la reserve va a buon fine vuol dire che ci sono ancora spazi disponibili in questo caso aggiorno sul db lo stato del drop slot in questo caso mi interessa salvarli perché se per caso crescia o se per caso devo spegnere il server e avviarlo mi interessa avere salvato lo stato degli slot la disponibilità dei vari slot e l'occupazione dei vari slot faccio una publish che adesso vediamo e poi alla fine rispondo con un reply ok new slot oppure un reply error se nel caso in cui non posso prenotare lo slot che è già riservato quindi nel caso in cui due utenti clicchino contemporaneamente sul prenota quello slot lì ed è l'ultimo disponibile i due messaggi arrivano al gen server ma vengono messi in coda nella inbox uno dietro l'altro quindi il primo che arriva entra e riserva lo slot il secondo invece fallisce quindi anche in questo caso la concorrenza viene gestita in modo molto semplice che io qua in questo pezzo di codice sono sicuro che gestirò un caso alla volta non devo occuparmi della cosa per lo stesso slot sì quello sì però l'utente comunque seleziona uno slot alla volta quindi chiaro? ok cosa faccio qui? qui non c'entra molto con l'actual model però diciamo che prima ero nell'aggregato del carrello adesso sono nell'aggregato degli slot in qualche modo devo mettere in comunicazione queste due devo passare le informazioni da uno all'altro quindi ci siamo inventati un broker che manda messaggi in memoria questo qua non è rabbit non è Kafka non è niente è solo un broker in memoria che manda messaggi asincroni a qualcuno che è sottoscritto quindi questo qua pubblica un messaggio slot reserved passando gli user ID che ha riservato l'utente che ha riservato lo slot e a che ora che slot è stato riservato questo broker qui è sottoscritto da un process manager che nel caso di dello slot reserved anche lui è un gen server come vedete è un gen server all'end l'info sulla slot reserved quindi arriva un messaggio di tipo slot reserved con questi dati chiama il cart gateway dicendo che guarda il carrello dell'utente il tuo slot è questo quindi assegna lo slot al carrello così il carrello contiene tutte le informazioni che gli servono qua non c'entra con con l'actor model però è un process manager ragionando in termini di aggregati eccetera è comodo avere un process manager che fa da smistatore di informazioni tra un aggregato e l'altro per non mettere direttamente in comunicazione i due aggregati ok la cosa interessante che c'è sugli slot è che siccome lo slot a un certo punto lo slot delle 20 del 28 marzo del 29 marzo abbiamo detto a un certo punto passa non serve più e inutile che rimanga un processo attivo ancora di memoria per tanto tempo e quindi ha un meccanismo di spegnimento automatico ha un meccanismo basato su questa funzione che è send after process.send after quindi manda dopo questi qua sono 1060 60 secondi dopo ogni 10 ore dovrebbe essere ogni 10 minuti ogni 10 minuti manda un messaggio a se stesso per verificare lo stato dello slot quindi se nella verifica dello stato dello slot se mi accorgo che no ho sbagliato però non è questo che voglio farvi vedere non è questo che voglio farvi vedere scusate search lot timeout ah no scusate questo è un altro meccanismo ho sbagliato faccio reverto un attimo allora cosa succede l'utente ha il carrello pieno con dentro le sue pizze ha riservato lo slot delle 20 del 29 marzo ma non completa l'ordine rimane lì rimane lì e continua a girare su quello del sito oppure abbandona il carrello lì e va a fare qualcos'altro senza completare l'ordine io non voglio che lo slot rimanga allocato per quell'utente perché mi sta portando via capacity per altri clienti quindi dopo 10 minuti se l'utente non ha completato l'ordine gli libero lo slot e questo è il meccanismo che è stato implementato qua sotto il kill dello slot è su un altro branch secondo me non è qui quindi di fatto cosa viene fatto c'è una subito in avvio ok su quando faccio la set slot viene messo questo set slot quindi lo dico verifica tra 10 minuti verifica se l'ordine è stato chiuso se è stato chiuso ok altrimenti killami il processo viene fatto e questo questo meccanismo viene gestito tramite la send after la send after è una funzione della modulo process che manda un messaggio a se stesso self e me stesso mandando questo messaggio dopo 8 minuti ok questo verify slot status va a verificare lo stato va a rilasciare lo stato se dopo 10 minuti l'ordine non è ancora completato va a rilasciare lo stato dello slot libera quindi lo slot per altri clienti questo è il meccanismo ok cos'altro c'è qua è più o meno fatto tutto nello stesso modo poi a un certo punto arriverà il concetto di ordine ma anche l'ordine non è altro che un altro gen server che viene creato tramite la funzione il messaggio create order farà tutta la valutazione manderà il messaggio order created eccetera eccetera quando l'ordine viene creato il nostro process manager andrà anche a spegnere il carrello se non ricordo male esatto sulla order created vado a chiamare il gateway del carrello chiamando stop car quindi vado a spegnere il processo del carrello così non rimangono carrelli attivi per troppo tempo quindi c'era il meccanismo del tempo e così via quindi rispetto a un'applicazione tradizionale cos'è che abbiamo qui abbiamo la persistenza dello stato su varie chiamate quindi il caso tipico del carrello è che nell'applicazione che abbiamo visto prima sulle slide tipicamente carico l'aggregato del carrello mi chiamo una funzione e persisto e poi il carrello viene cancellato e viene rimosto dalla memoria in questo caso invece il processo rimane comunque attivo rimane vivo per n chiamate fino a quando decido io altrimenti dovessero io decidere se tenerlo vivo spegnerlo così via quindi la differenza diciamo principale è proprio questa è quella di avere applicazioni stateful nel mondo web ma non stateful come si avevano negli anni inizio degli anni 2000 con la session o quelle cose lì ma con un beccatismo un po' più furbo un po' più funzionale vai vai invece allora viene rilasciato lo slot dopo dieci minuti ma se sono andato avanti nel processo c'è anche un meccanismo che a ogni passaggio verifica che ci siano i processi che mi garantiscono che tutto è fatto nel modo corretto nel senso dopo dieci minuti viene rilasciato lo slot ma io sono al pagamento cioè io ho fatto tutto sono arrivato alla fine devo pagare ma non trovo la carta che ne so e aspetto più di dieci minuti intanto il processo mi immagino che visto che nessuno l'ha mai ucciso è ancora lì finché un momento dice sono passati dieci minuti e io lo slot non c'è ma ok no non c'è qui ma si può facilmente implementare cioè quello che succede qui è che tu arrivi sul conferma d'ordine e ti dà un errore che non hai selezionato lo slot devi tornare indietro di selezionare lo slot quindi anche se non è pagamento sì in questo caso sì è una demo non è molto friendly però si può gestire però non vedo molte alternative se tu definisci che il time out sono dieci minuti e se lui sta concludendo l'ordine al nono minuto e cinquantesimo secondo ma aspetta i dieci minuti a cliccare sul conferma lo slot viene comunque perso perché tu non hai non sai il server non può sapere se l'utente sta cliccando dove sta facendo quindi non vedo molte alternative sono allungare un po' di più magari il time out dello slot però sì potrebbe essere un'idea del genere ah ok ok è così davvero anche Ivan Bright hai quindici minuti per completare l'ordine hai il timer visibile sempre quindi potrebbe essere no no e comunque va bene cos'altro dire che altri contesti in che altri contesti funziona bene questo modello dell'actor model quindi non solo nelle applicazioni web che forse non dà il massimo di se stesso se no in casi un po' particolari come questi o come quello dei pizzaioli che vengono simulati come dei processi che fanno delle pizze vabbè però qua è per la demo lo vedo bene usato in contesti in cui dobbiamo processare dei dati magari se mora dei dati voglio processarli in parallelo abbiamo fatto un'applicazione per una società sicura e sicurazioni in cui l'utente caricava un file excel con dentro qualche migliaio di nominativi per ogni nominativo del file excel bisogna fare delle operazioni chiamare delle API fare dei calcoli sui dati presenti nel file excel e generare un altro file excel in uscita in quel caso avevamo fatto l'elixir l'API che riceveva il file lo apriva lo spacchettava per ogni riga che aveva creato un processo i processi andavano tutti per conto loro e ogni processo andava a scrivere poi una riga su un database e notificava un contatore un altro gen server che contava i processi attivi diciamo si aspettava che tutti finissero quando tutti avevano finiti andava a fare la query sul db generava il file di uscita questo che avveniva abbastanza bene fatto con buone performance quindi tutte le operazioni in cui hanno dei processi di processare dei dati delle grosse mole di dati magari e poi li potete gestire in parallelo in modo concorrente funziona abbastanza bene come modello i videogiochi un altro ambito in cui però non tutti fanno videogiochi purtroppo un altro ambito in cui potrebbe essere divertente sviluppare qualcosa del genere avevo fatto durante un kata un prototipo di MUD MUD non so se qualcuno di voi conosce qualcuno abbastanza anziano i multi user dungeons sono dei giochi testuali che si giocavano negli anni 90 in cui ogni giocatore si collegava a questo server e ogni giocatore collegato era un processo in realtà che si spostava all'interno di questo dungeon ed era fatto appunto con il modello dell'actor model anche in questo caso in Elixir un kata interessante da fare con Elixir il kata del game of life modellando ogni cella come processo anche per esempio potrebbe essere interessante quindi una cella che ha uno stato vivo morto e interagisce con le celle vicine che sono altri processi quindi manda messaggi vicini per sapere se sono vive o morte e decide il suo stato futuro un'altra implementazione oppure anche il Mars rover viene molto bene se il rover è un processo si è fatto anche multi rover diventando un tipo di processi che si uomano su Marte e basta non ho altro da aggiungere se avete altre domande però volentieri una cosa interessante che ho visto di recente parlando del discorso web è l'utilizzo degli attori nelle nuove architetture diciamo senza client side rendering dove con stimulus e quant'altro non so chi chi le abbia viste dove appunto l'utilizzo degli attori serve per creare in parallelo nella cache o direttamente i frammenti HTML già popolati per riempire le varie zone per cui io ragiono su quelli che impropriamente sono dei micro front end e quindi i vari componenti sono assegnati a degli attori e il loro aggiornamento sono su frammenti questa è una delle cose più recenti più interessanti nell'utilizzo server side per la produzione diciamo reattiva delle app di una spa diciamo io volevo capire meglio come viene gestita la risposta nel senso se io mando un messaggio a un attore fanno l'elaborazione e me la deve ritornare ovviamente me la ritorna in maniera asincrona quindi non ho ben capito non sono abituato allora vediamo un esempio allora torniamo sempre sul caso del del carrello che era quello che conosciamo meglio questa chiamata qua la chiamata execute della pizza del comando add pizza questa è una chiamata bloccante quindi lui rimane qui in attesa della risposta ok perché viene perché questo perché è implementato in questo modo quindi questa execute torna ok cart quindi torna la tupla ok e il carrello attuale nuovo perché dico che è sincrona perché è stata scritta in modo sincrona perché questa execute esegue una genserver punto call passandogli il process id che lo vi usa l'id e il comando e la call è una chiamata sincrona quindi qua rimane in attesa della risposta quindi è importante che l'end del call rispettivo in questo caso ad pizza sia veloce sia sufficientemente veloce se blocca comunque questo attore solo non tutti gli altri naturalmente un'alternativa sì invece il processo chiamante che chiama il processo del carrello aspetta e aspetta la risposta sì 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 esatto quindi attenzione che se sei dentro n livelli se tu mandi il messaggio l'A manda il messaggio all'attore B B manda il messaggio all'attore C C manda il messaggio all'attore D tutti i sincroni A aspetta che finiscano tutti comunque è bloccante l'alternativa è quella di utilizzare un'altra primitiva del genserver che si chiama cast ok che si chiama esattamente nello stesso modo quindi lo chiamo così però è asincrona quindi non aspetta la risposta ma manda un messaggio è una file forget manda un messaggio lui riceverà invece da una handle call riceverà una handle cast si chiama in questo caso handle cast è fatta nello stesso modo mi sembra no forse non c'è non mi ricordo è fatta nello stesso modo non ritorna non risponde reply risponde no reply in questo caso e risponde con il nuovo stato quindi non c'è la tupla con la risposta perché la risposta non deve darla a nessuno lui dove semplicemente dire ho finito basta devi implementarlo tu no l'idea è poter utilizzare questo from qui per rispondere quindi poter fare una process punto send from virgola per dargli il messaggio reply state non so in questo caso rispondi al chiamante che hai fatto qualcosa potrebbe essere così attenzione a queste chiamate di non creare però dei deadlock tra processi che queste quelle si possono fare quindi se varie chiamate async si chiamano a vicenda poi si blocca tutto e i due processi non vanno più avanti però diciamo che il default adesso qui non mi ricordo se c'è qualche handle cast da qualche parte per qualche caso reale ma c'è forse ad esempio la preparazione delle pizze era che era simulata con dei pizzaioli che erano dei processi che impiegavano un tot tempo a creare la pizza veniva gestita con la handle cast quindi mandavo il messaggio al pizzaiolo il pizzaiolo faceva quello che doveva fare ci impiegava diversi minuti preparare la pizza quando aveva finito mi la riconsegnava la pizza fatta ed era fatta in questo modo qui con la handle cast preparare pizza quindi qualcuno gli mandava un messaggio di preparare pizza relativamente all'ordine andavo a prendere un pizzaiolo dal pool andavo a chiamare la preparare order sul pizzaiolo e il preparare order internamente aveva una callback o una broker usavo il broker non mi ricordo per dirmi che la pizza era pronta ed era fatta in modo asincrono questa c'è una publish esatto dell'order ready quindi i messaggi che possiamo andare a un attore se non possono essere sincroni o asincroni allora io premetto che è la prima volta in vita mia che vedo erixir ed è la prima volta in vita mia che sento parlare dell'actor model a peggior ragione sono pure abbastanza incapace a programmare siamo al massimo proprio della mi sono qualificato ok perfetto quello che mi sembra è che sia molto linguaggio specifico nel senso che se io devo immaginare questa roba qua fatta in python o in javascript è c'è un overhead di preparazione a basso livello che è impossibile implementare a meno che ci sia un repo di qualche indiano che l'ha fatto per cui cioè qual è il beneficio finale o da parte dell'esperienza sviluppatore o dalla parte della produzione non so quale sia il beneficio non ci arrivo che relega tra virgolette questo tipo di approccio a questi linguaggi mi permetti di dire di nicchia ok questa è la domanda grazie allora teniamo scollegate due cose un contro l'actor model che c'è tutta la teoria e un contro l'implementazione che viene fatta nell'Xeer se sviluppi nell'Xeer o in Erlang in Erlang sviluppano in pochi però ci sono sviluppatori in Erlang se sviluppi nell'Xeer hai già tutto dentro nel linguaggio e quindi ti è comodo utilizzarli c'è anche framework web tipo Phoenix di fatto è basato su processi sotto è molto nascosta la cosa perché tendono a nascondere però c'è tutta questa cosa sotto quindi se ce l'hai nel linguaggio e usi questo linguaggio che seppur di nicchia un po' è utilizzato hai tutti i vantaggi di utilizzarlo se programmi in Java o in JavaScript ti dico di no perché non puoi farlo cioè c'è qualche framework per l'actual model in JavaScript ma sono simulati perché non è in realtà un linguaggio concorrente quindi non puoi farlo in Java e in C Sharp c'è H e H.net che sono due framework che replichano esattamente questi concetti quindi hai il concetto di attore che è una classe base dalla quale derivare hai il concetto di messaggio che puoi mandare da altri attori hai il concetto di process ID o di address ID mi sembra che si chiami in quel caso però tutti questi concetti qui sono riproposti in linguaggi Java e C Sharp tramite H ed è esattamente la stessa cosa funziona esattamente nello stesso modo l'implementazione lì è fatta tramite Thread mi sembra che sia non l'ho mai visto internamente quindi ai limiti del runtime di Java o di C Sharp però permette di modellare l'applicazione in questo modo sul farlo o non farlo sta un po' a te dipende dal contesto noi abbiamo usato un'applicazione simile a Commerce ha funzionato abbastanza bene aveva alcune caratteristiche che lo rendevano interessante abbiamo utilizzato in alcune applicazioni che processano dati nella maggior parte delle altre applicazioni non fosse non ha molto senso lo dico sinceramente da amante di l'actor model è come tutte le cose però anche Event Sourcing non ha senso usarlo sempre però quando trovi il caso siccome ci sta bene ah è vero in ambito IoT non sono riuscito a fare nell'exir perché il cliente l'ha voluto non sono riuscito a fare nell'exir perché nonostante mi avesse regalato quasi una giornata in intero exir poi non hanno voluto fare nell'exir devo leggere tutti i contatori di un intero quartiere a Brescia e se non fai un'applicazione in architettura così è praticamente impossibile perché i contatori hanno per default una batteria per cui loro si attivano qualche millisecondo al giorno in quel millisecondo devi fare tutto se dicono Ema ha consumato da ieri a oggi 20 metri cubi di gas e tu devi dirgli a Ema domani devi spegnerti e glielo dici in quel lasso di tempo lui non ti dice sì o no domani mattina quando lui si riprende ti dice oggi Ema ha fatto 10 metri cubi di gas e se lo spento e quindi tu hai in quell'istante c'è migliaia di contatori in cui devi fare la stessa cosa all'istante se hai N processi lo fai se ti metti a fare un loop su tutti non lo fai ma neanche se hai sotto non ce la fai è impossibile la differenza tra Elixir e .NET o Java stessa cosa che tu devi fare devi stanziarti in actor system che se no non hai a disposizione invece con Elixir è nativo quindi sei già dentro l'actor system quindi hai già tutto il dispositivo e quindi hai uno stack in bene ho detto bene ho detto bene comunque anche in ambito industriale è molto comodo quando devi comunicare con delle macchine e hai dei processi che devono raccogli i dati dalle macchine tante macchine tu puoi stanziare un processo per ogni macchina che lui si collega la macchina ti accoglie i dati e poi ogni tanto tu vai a chiedere ogni tanto lui fa da buffer diciamo li raccoglie ci sono dei contesti in cui si sposa bene si capisce di più il discorso al di fuori delle primitive secondo me se ricordiamo un fatto che in realtà non sono cose reali sono simulazioni quindi di fatto uno dei vantaggi è anche quando ho quelle situazioni come il contatore o l'ambito industriale la quantità di memoria necessaria per far girare questi elementi è molto più bassa che non quello di usare quello che potreste trovare in base al linguaggio nativamente come supporto per esempio in Java un thread di default se uno non tocca non fa file tuning sale con un mega di memoria quei processi da hanno qualche cappa di memoria perché in realtà non gli serve allocare un proprio spazio di memoria cioè in più l'altra cosa non so giusto per notare visto che abbiamo visto un esempio sostanzialmente realistico è che la scomposizione del lavoro è uno degli elementi vincenti per chi per esempio adesso sono arrivati in PHP Fiber e quindi quello che si vede non è tanto al di fuori di quello che può essere il discorso performance è proprio l'organizzazione del lavoro questa è una cosa vincente di per sé a fronte di quello che può essere perché io sono molto più portato a analizzare di nuovo a fare l'analisi di quello che devo realizzare perché devo capire il lavoro da fare e devo scomporre quali sono le parti ed è una cosa che alcune volte ci perdiamo nella realizzazione del software anche come validazione per cui semmai scopriamo che certe cose non ci servono questa è una cosa che mi ha stupito tantissimo esatto lo dicevo anche prima nelle slide che un altro dei vantaggi è il fatto di ridurre il carico cognitivo per chi programma se non dobbiamo pensare a troppe cose dicevamo prima l'esempio della concorrenza sugli slot il fatto è gestita dal modello senza che noi facciamo niente qui nel reserve slot qui potrebbe essere concorrenza a tanti utenti vogliono riservare lo stesso slot non devo mettere lock non devo mettere semafori o altre cose strane qui intorno perché so che qui entrerò uno alla volta quindi il primo che arriva si becca lo slot gli altri si beccheranno un messaggio di errore il centro però non è più disponibile e non doverlo pensare per me è un grande vantaggio come programmatore non devo stare a pensare a queste cose va bene vai Gianni ora premesso che io ho usato pochissimo H come framework in Scala e era un'applicazione che mi sono ritrovato al dover mettere mano non conoscevo bene l'actor model non conoscevo bene Scala e l'ho vissuta un po' come un inferno perché c'erano un sacco di problemi proprio a livello di come era strutturata l'applicazione e quindi ti chiedo qual è la best practice che bisogna sempre applicare oppure le cose che non bisogna mai fare per rendere efficace questo modello e non inficiare la teoria fantastica che c'è dietro allora a parte i principi di base dell'incapsulamento che valgono le interface aggregation tutti i solid principles si applicano comunque anche qui la cosa difficile è forse identificare quali sono gli attori nel tuo sistema io ho visto che una buona metrica che funziona abbastanza bene ma non sempre è quella di identificare un aggregato con un attore quindi quando tu ai modelli riesci a modellare gli aggregati riesci a definire quali sono gli aggregati puoi modellare ogni singolo aggregato come attore nel tuo sistema e con quello già ti risolvi molti dei problemi che perché l'aggregato è personatura autoconsistente riceve dei messaggi che gli cambiano lo stato quindi vai molto nell'ottica OP però spostando i tuoi processi altre buone regole poi non saprei però questa è sicuramente la principale anche se adesso dicono che gli aggregati sono morti quindi dobbiamo trovarne un altro gli aggregati sono delle macchine stati è vero sì è vero sì è vero è vero è vero sono delle macchine stati tanto esiste anche il gen state dentro elixir che appunto rappresenta una macchina stati non ha la handle call la handle cast altre funzioni che gestiscono il cambiamento di stato esatto va bene vi ringrazio sono qua ancora sono qua anche stasera possiamo parlare della seconda parte del talk del perché se uno in programmatore XP deve conoscere l'actual mode ci penso visto che era stato nominato il cut dai game of life prendo l'occasione non come l'ultima volta che mi ero dimenticato per ricordare che il sabato 15 grazie che sabato 15 al mattino dalle 9.30 alle 12.30 ci sarà il secondo appuntamento del Cator Day che è un evento che Damiano e altri hanno voluto proporre che consiste nel mettere le mani in pasta tutti insieme su dei kata che sono degli esercizi fatti apposta per migliorarsi su determinati ambiti quindi insomma l'invito rinnovo l'invito c'è l'evento su meetup è gratis ci sono le brioche in genere insomma ma non vogliamo corrompere nessuno grazie